Como scorrevole è la porta a vetro viva dalle linee eleganti e leggere. L'anta ha uno spessore di 40 mm. Può essere realizzata con altezza fino a 300 cm e larghezza massima di 150 cm. La porta può avere vetro singolo doppio. Como è caratterizzata dalla fusione del vetro che sormonta il profilo in alluminio, creando la perfetta combinazione tra estetica e tecnica. Le innumerevoli possibilità di abbinamento delle finiture di vetro e profili la rendono adattabile a qualsiasi progetto. La maniglia viene fornita nella stessa finitura dei profili. Como è disponibile anche in versione scorrevole interno muro. Bellagio è la porta a vetro viva scorrevole caratterizzata da una sottile cornice, costituita dal profilo in alluminio e disponibile in diverse finiture. Le ante Bellagio sono realizzabili fino a 300 cm di altezza e 150 cm di larghezza, mentre lo spessore del profilo è di 40 mm. All'anta Bellagio possono anche essere aggiunti dei traversini per creare due, tre o quattro settori. Cernobbio è la porta a viva più minimalista. Le ante in vetro sono libere da profili e permettono di dividere ambienti pur mantenendo la continuità dello sguardo. La vasta scelta di finiture dei vetri permette un'elevata adattabilità. L'anta ha uno spessore di 10 mm ed è disponibile con altezza fino a 275 cm e larghezza fino a 120 cm. Como, Bellagio e Cernobbio condividono una gamma di maniglie disponibili in diverse finiture adattabili ai vari stili di arredo. Tutte le scorrevoli a vetro sono dotate di un binario facilmente installabile a soffitto, a parete o a incasso. In ogni caso è possibile richiederne la consegna anticipata del profilo d'incasso, per eventuali esigenze di cantiere. L'imballo delle porte viva protegge l'anta in ogni suo lato e sugli angoli. Su richiesta è a disposizione la cassa di legno viva. L'imballo delle porte viva.